In questo esercizio abbiamo una pallotta di 3,54 g che colpisce orizzontalmente un blocco di 1,22 kg in quiete, lo attraverso e si conficca orizzontalmente in un secondo blocco di 1,78 kg anch'essi in quiete sullo stesso piano. I due blocchi acquistano rispettivamente una velocità di 0,63 m al secondo il primo e di 1,48 m al secondo il secondo. Viene chiesto di calcolare la velocità della pallottola all'inizio e subito dopo l'uscita dal primo blocco. Allora la situazione è questa, abbiamo un piano in cui abbiamo questo primo blocco di massa m1, la nostra pallottola di massa m che inizialmente ha una certa velocità v con 0, colpisce quindi con questa velocità v con 0 il primo blocco e lo attraversa, mi passa nel mezzo, quindi fu riuscirà da qua con una certa velocità v con 0 primo e questo ovviamente blocco avrà acquisito una velocità che possiamo chiamare v con 1 prima e successivamente si va a conficcare sul secondo blocco di massa m con 2 che quindi a causa di questo acquisisce una velocità che possiamo chiamare v con 2 secondo per sottolineare che è una seconda fase. Ovviamente avremo una v con 0 secondo che sarà uguale alla v con 2 secondo, v con 0 secondo sarà uguale alla v con 2 secondo poiché la pallottola è all'interno del nostro blocco stesso e una v con 1 secondo, quindi la velocità del blocco m con 1 nella seconda fase, nella fase finale sarà anch'esso uguale a v con 1. Una v con 1 secondo sarà uguale alla v con 1 primo poiché ovviamente la velocità del secondo blocco non cambia. Una volta che il proiettivo l'ha attraversato, questo secondo blocco si manterrà sempre alla stessa velocità quindi nella fase finale che abbiamo indicato con l'apice, con appunto i due apici, sarà sempre la stessa. Questa varierà mentre quella del nostro blocco m con 1 sarà la stessa. Allora possiamo ovviamente applicare per risolvere questo problema che ci chiede di calcolare la velocità iniziale e la velocità di 1 primo, quindi prima alla partenza della pallotta e subito dopo essere uscita dal primo blocco, possiamo applicare la conservazione della quantità di moto ovviamente a tutto il sistema e tenuto conto che le forze esterne, se vi sono forze esterne, sono la forza peso e bilanciate e non vi sono forze di attrito perché non viene specificato diversamente. Per cui le forze sono delle forze interne di attrito tra il blocco e il sistema, tra il proiettivo del primo blocco e tra il proiettivo del secondo blocco, come essendo interne al sistema non possono variare la quantità di moto, quindi la quantità di moto complessiva si deve conservare. Allora, la mia quantità di moto ovviamente nella prima fase, nella fase in cui abbiamo solamente il proiettile in moto, quindi quello che abbiamo indicato senza apice, la mia P con 0 sarà uguale alla massa m del mio proiettile per V con 0. Successivamente nella fase in cui abbiamo attraversato il primo blocco, quindi nella fase indicata con l'apice primo, avremo la nostra P primo, quindi la nostra quantità di moto P primo, che sarà uguale, quindi a m con 0, la massa m per V con 0 primo, quindi la massa m del proiettile, m per la sua V con 0 primo, più la quantità di moto che ha acquistato il nostro blocco, quindi m con 1, più m con 1 per V con 1 primo, più ovviamente il contributo di m con 2, che però ancora è fermo, quindi questa è la quantità di moto nella seconda fase, la quantità di moto nell'ultima fase, quindi la P secondo, sarà uguale, avremo il nostro proiettile che si è conficcato qui dentro, quindi avremo m più m2, tutto quanto che si muove con velocità V con 2 secondo, quindi questa velocità qua, più la quantità di moto di questo termine, che sarà m con 1 per V con 1, ma sarebbe V con 1 secondo, ma abbiamo detto che V con 1 secondo è uguale a V con 1 primo, poiché il nostro blocco ovviamente rimane sempre con la stessa velocità, quindi possiamo scrivere direttamente m con 1 per V con 1 primo. Ovviamente questi vettori sono tutti quanti lungo questo asse, poiché non vi sono forze che agiscono sull'asse verticale, quindi la quantità di moto ha inizialmente su quest'asse, anche dopo si deve mantenere su questo stesso asse, quindi possiamo scriverli direttamente prendendo in considerazione semplicemente le quantità scalari, sono tutti quanti sullo stesso asse, immaginiamo che ovviamente che siano anche tutti quanti nello stesso verso, quindi quello che possiamo scrivere ovviamente è che questo deve essere uguale a questo, e questo deve essere uguale a questo. Possiamo sfruttare queste uguaglianze successive per calcolarci la V con 0 e la V con 1, quindi possiamo ad esempio scrivere che la m V con 0, quindi questo termine qua è uguale a m V con 0 primo più m con 1 V con 1 primo, quindi questo è il primo pezzo che possiamo scrivere, e poi possiamo scrivere che la m V con 0, quindi da questo sarà uguale a tutto quanto questo qua, quindi sarà uguale a m con 1 V con 1 primo più m più m con 2, tutto quanto per V con 2 secondo. Quindi uguagliando la prima con la seconda e la prima con la terza otteniamo queste due relazioni, e queste ci permettono anche di scrivere, questo è V con 0 primo, sì, quindi da questa qua ci possiamo ad esempio ricavare la V con 0 da questa seconda, quindi la mia nostra V con 0, la seconda sarà uguale a m con 1 V con 1 primo più m più m con 2 per V con 2 secondo, tutto quanto fratto m. A questo punto, da questo ci possiamo, in questo qui conosciamo ovviamente le masse, e conosciamo la velocità V con 1 primo e V con 2 secondo, perché sono le velocità che hanno appunto i due blocchi, la V con 1 primo, il blocco dopo che viene attraversato, e la V con 2 secondo, che è la velocità finale acquisita dal nostro blocco dopo che è stato colpito dal proiettivo e si è confeccato. Quindi queste due, V con 2 secondo e V con 1 primo, le conosciamo, sono appunto 1,48 e 0,63, quindi se le sostituiamo qua dentro, le masse le conosciamo tutte, e ci possiamo ricavare la nostra V con 0, che risulta pari a 962 metri a secondo. Una volta calcolata la V con 0, ad esempio, sfruttando quest'altra relazione qua, ci possiamo ricavare la V con 0 primo, quindi sfruttando questa ci possiamo ricavare la V con 0 primo, ossia la velocità del proiettile quando esce dal primo blocco, poiché in questa relazione la V con 1 la conosciamo e la V con 0 l'abbiamo appena calcolata. Quindi da questo ci possiamo ricavare V con 0 primo, che è uguale a M V con 0 meno M1 V con 1 primo fratto M, quindi V con 0 l'abbiamo appena calcolato, V con 1 primo lo conosciamo dai dati, e le masse le conosciamo, quindi sostituendo, questo risulta uguale a 744 metri al secondo. Quindi abbiamo trovato la velocità iniziale e la velocità dopo che ha attraversato il primo blocco. In questo esercizio abbiamo un razzo che esplode mentre si muove verticalmente a 300 metri al secondo, dividendosi in tre pezzi di massa uguale. Il primo pezzo continua verso l'alto a 450 metri al secondo, un secondo procede verso destra a 240 metri al secondo, viene chiesto di calcolare la velocità del terzo pezzo. Quindi la situazione è la seguente, il nostro razzo inizialmente, quindi si sta muovendo verso l'alto con una certa velocità, possiamo indicarla con V con I, successivamente si divide in tre pezzi di massa uguale, quindi avremo, con questa possiamo chiamare M grande, un primo pezzo di massa M con 1 che si muove con una certa velocità V con 1, verso l'alto un secondo pezzo che possiamo chiamare M con 2 che si muove con una certa velocità V con 2, verso destra, e un terzo pezzo in cui non conosciamo la velocità, possiamo immaginare ad esempio che si muova in questo modo, M3 di velocità V con 3, quindi con questa velocità, possiamo immaginare, vado in questo verso e poi vedremo se è vero o no in base ai risultati che otterriamo quando faremo i nostri conti, con M1 uguale a M2 uguale a M3, le masse sono tutte uguali, uguale a M terzi, visto che sono di masse uguali, sono ovviamente un terzo della massa iniziale. Il sistema ovviamente è un sistema isolato, perché possiamo immaginare che nel breve istante in cui avviene l'esplosione non agiscono forze esterne, o comunque si possono trascurare le forze esterne proprio per il breve istante in cui avviene l'esplosione, per cui la quantità di moto subito prima dell'esplosione deve essere uguale alla quantità di moto subito dopo l'esplosione. Quindi avremmo la nostra P iniziale deve essere uguale alla nostra P finale. Quindi da un punto di vista vettoriale abbiamo la nostra P iniziale, ovviamente è data semplicemente dalla massa del tutto il razzo quando era ancora intero, per la velocità iniziale come vettore. La nostra P finale ovviamente sarà la somma di M1 V con 1 più M2 V con 2 come vettore più M3 V con 3. Quindi devo scrivere, devo eguagliare vettorialmente questa relazione, quindi M V con i, questa quantità, sarà uguale a M V con 1 più M V con 2 più M V con 3. Metto direttamente M che è uguale appunto a M terzi. Allora, questo ovviamente la possiamo scomporre, questa eguaglianza vettoriale la possiamo scrivere lungo l'asse x, lungo l'asse y. Ci scegliamo un sistema di riferimento, immaginiamo di mettere l'asse y in questo modo e l'asse x in questo modo, questo ci torna comodo per, visto che abbiamo già due velocità che sono uno lungo l'asse x e uno lungo l'asse y. Quindi questa stessa relazione la dobbiamo scrivere sull'asse x e sull'asse y. Quindi avremo M grande per V con i x sarà uguale a M per V con 1 x più M per V con 2 x più M per V con 3 x. E la stessa cosa ovviamente per la y. Quindi M grande per V con 1 y sarà uguale a M per V con 1 y y più M per V con 2 y più M per V con 3 y. Dobbiamo andare a vedere quanto valgono ovviamente queste componenti. Allora, la velocità V iniziale lungo l'asse x è 0 perché la nostra V iniziale inizialmente, questa è la y e questa è la x, la nostra V iniziale è tutta diretta lungo l'asse y, quindi ha componente lungo l'asse x iniziale uguale a 0. Dall'altra parte, quindi avremo la nostra V con 1 lungo l'asse x, quindi dopo l'urto, la nostra V con 1 lungo l'asse x ha anch'essa componente 0, moltiplicato a M quindi da comunque 0, più la nostra V con 2 lungo l'asse x è esattamente uguale a V con 2 poiché V con 2 è orientata tutta lungo l'asse x, quindi più M V con 2 più la componente di V con 3 lungo l'asse x, la nostra M per la componente di V con 3 lungo l'asse x, la possiamo ottenere da qua. Se indichiamo ad esempio con θ con 3 questo angolo, quindi la V con 3 sarà questa qua, la componente sarà quindi la proiezione di V con 3 su questo asse, quindi sarà V con 3 per il coseno di quest'angolo, quindi avremo M per V con 3 per il coseno di θ con 3, dato appunto θ con 3 è questo angolo qua, quindi la componente lungo l'asse x è questa e dobbiamo però in realtà metterci un segno meno poiché questa componente, come vediamo al disegno, è in verso opposto rispetto al verso positivo dell'asse x, quindi qua va messo un segno meno. Per quel che riguarda le componenti lungo l'asse y, la mia velocità iniziale V con 1, V con i lungo l'asse y è uguale esattamente a V con i, quindi avremo M per V con i, sarà uguale, la componente di V con 1 lungo l'asse y è esattamente uguale a V con 1, quindi avremo M per V con 1 più la componente lungo l'asse y della V con 2 è 0 poiché V con 2 è lungo l'asse x, quindi più 0, più la componente lungo l'asse y della V con 3 moltiplicato per M con 3 sarebbe questa, quindi questa componente qua non è altro che V con 3 per il seno di quest'angolo, quindi più M per V con 3 per il seno di θ con 3. Quindi queste sono le due relazioni che troviamo, qui ovviamente la massa e la massa si possono semplificare, qui abbiamo che queste masse si possono pure semplificare tenendo conto che la nostra M grande è uguale a 3M piccolo, quindi anche qua la massa e la massa si possono semplificare e quindi ci rimangono le relazioni V2 uguale a V con 3 per il coseno di θ con 3 dalla prima e dalla seconda ci rimangono le relazioni V3, V3 per il seno di θ con 3 più V con 1 uguale a V con i. Questa è l'altra relazione che ci viene fuori. Quindi se adesso risolviamo queste, per esempio se facciamo, se dividiamo, quindi questa la possiamo scrivere uguale a V con i, questa la possiamo scrivere come V3 seno di θ con 3 uguale a V con i meno V con 1, c'è un 3 da qualche parte, qui c'è il 3 V con i, quindi questo è 3, quindi questo è 3. Quindi 3 V con i meno V con 1, questa qui la possiamo riscrivere così come V3 coseno di θ con 3 uguale a V2, quindi se dividiamo questo per questa relazione, per questa relazione, seno su coseno ci dà la tangente, V3 e V3 si semplificano e ci risulta che la tangente di θ con 3 è uguale a 3 V con i meno V con 1 tutto quanto fratto V con 2. Quindi da questa relazione ci possiamo ricavare il nostro θ con 3 e andiamo a fare la sostituzione dei valori della V con i, della V con 1 e della V con 2 che sono tutti i nostri dati perché sappiamo appunto V con i sarebbe 300, V con 1 è 450 e V con 2 sarebbe 240 e andando a fare questa sostituzione otteniamo il θ con 3 che è uguale a 62 gradi. Quindi abbiamo già individuato questo angolo formato tra le direzioni della velocità del terzo pezzo e l'asse delle x e poi da questo per esempio possiamo scriverci che V con 3 è uguale a V con 2 fratto il coseno di θ con 3 e questo ci permette di ricavarci quindi V con 3 è uguale a 511 metri al secondo, quindi abbiamo ricavato il modulo di V con 3 e se vogliamo ci possiamo ricavare anche le due componenti la V con 3x sarebbe uguale a meno V con 3 meno V con 3 per il coseno di θ e sostituendo questo da meno 240 metri al secondo quindi negativo ovviamente perché abbiamo detto appunto è diretta in questo verso e la V con 3y, V con 3y risulta uguale a V con 3 per il seno di θ e questo risulta uguale a 450 metri al secondo. quindi o danno l'angolo e il modulo oppure danno le due componenti lungo x e lungo y non abbiamo perfettamente identificato la velocità del terzo pezzo.